Allora, siamo qui, redazione di Sorrisi con Marco Sentieri. Come stai innanzitutto? Sto bene, emozionato quanto basta, ma carico sereno al punto giusto, quindi non vedo... Tutto bello, tutto bello. So che per esperienze e pergresse sei un po' pronto a tutto, a qualsiasi situazione, quindi insomma, questo turbine sarremese, come lo stai vivendo? Sono pronto a tutto perché nella vita, fidati, non è una frase fatta, mi sono sempre scorciato le maniche, ho sempre dovuto cavarmela da solo, quindi la sto vivendo col fatto che se dovessi uscire o col fatto che se non dovesse arrivare nulla di così grande non succede nulla di... non è una delusione, perché per me la cosa grande è già essere qui e fare quello che sto facendo, parlare con te, quindi... Quando si viene a staremo con un tema sociale, credo, almeno la mia impressione, magari me la confermi, uno dei focus importanti è quello di far arrivare un messaggio, no? Di far arrivare il messaggio, poi in tutte le canzoni è così, però quando c'è un tema sociale forse è ancora più forte questa volontà, no? Certo, e indubbiamente poi bisogna sentirla, bisogna sentire quello che si sta comunicando. Nel mio caso io tengo tantissimo al tema del bullismo, ma in generale al no alla violenza e quindi sono felice e orgoglioso di portare questo tema e nulla a detta degli altri riesco anche a comunicarlo e questa è la cosa che mi rende più felice. Una cosa particolare del brano e che è anche raccontato a dicembre quando ci siamo incontrati è che è come se tu stessi parlando più ai carnefici che alle vittime, che è una cosa non consueta, no? Perché di solito si parla più alle vittime. È vera questa cosa? Me la confermi se me la spieghi? Certo, te la confermo. In realtà il brano, se dovessi spiegartelo, si suddivide in due parti. Nella prima parte si spiega e ci rivolge al carnefice dicendo perché fai queste cose. Nella seconda parte poi si parla del bullizzato che ha il coraggio di tendere la mano al suo carnefice dandogli una mano e aiutandolo. Quindi viene vista da entrambe le parti. Se tu, diciamo, una canzone, per alcune persone i messaggi sociali che passano attraverso le canzoni sono solo... alcuni ritengono che siano inutili o poco importanti. Invece qual è il tuo pensiero su questa cosa? Ma io invece credo che siano importantissimi, soprattutto perché attraverso la musica si possono mandare tanti messaggi che arrivano ai giovani più facilmente. Io non so se la soluzione o la medicina sia questa, ma credo che sia meglio di non farla. Non parlarne non è che aiuta di più. Quindi cominciamo a parlarne. Cominciamo a sensibilizzare quanto più possibile. Sicuro qualcosa succederà. Perché io sarei molto curioso di capire che cosa accade nella mente e nel cuore di un bullo mentre è seduto a casa sul divano e sta ascoltando Billy Blue. Sarei proprio curioso delle sensazioni che provo. Anche perché poi il passaggio più difficile è proprio riuscire a parlare con il carnefice. Così l'abbiamo chiamato in questo momento. Perché è un ponte comunicativo molto complesso. È complesso parlare con le vittime, ma forse è ancora più complesso parlare con chi è bullo. Perché si intuisce, gli insegnanti intuiscono una incomunicabilità. Quindi forse osi fare qualcosa che è complesso. Ma è difficile perché spesso il bullo, il colpevole, il carnefice non sa di esserlo. Ecco perché è difficile. È vero, è vero. A proposito di consapevolezze vorrei parlare di questo progetto che so che ti riguarda, che è quello di Cuori Connessi, che è un libro che è molto più di un centinaio di pagine perché è il risultato di un lunghissimo progetto sostenuto da Unieuro nel quale c'è anche un tuo ruolo da testimonial. Se puoi raccontarci un po' come ti sei approcciato a questo progetto, cosa ne pensi, perché immagino che tu l'abbia visto e affrontato. Quindi raccontami un attimo, poi insomma magari diamo delle informazioni su questo. Innanzitutto ti dico che sono lusingato e onorato di essere testimonial di un progetto che tratta questo tema. Io più volte ho detto che sono molto vicino perché so cosa vuol dire subire atti sopprusi da parte di altre persone. Mi è capitato alle scuole elementari. Quindi orgoglioso, cuori connessi, invito a tutti quanti sul serio, anzi non a comprarlo perché sarà regalato, però a leggerlo e nulla. Ragazzi, più ne parliamo di queste cose meglio è. Io questo mi sento di dire. Il libro è in distribuzione gratuita, nei punti vendita Unieuro, ed è una raccolta di storie, di storie vere, di storie importanti che riguardano il bullismo soprattutto in quella sfera che riguarda il virtuale. Quindi attraverso l'uso di cellulari, attraverso l'uso dei social network anche. Questo aspetto che sembra meno concreto ma che in realtà fa moltissimi danni, qual è la tua opinione? Ma guarda, io credo che faccia molti più danni rispetto a quello che c'era prima dell'avvento dei social. Forse si pensava che con l'emancipazione potesse andare a scemare questo fenomeno. In realtà non è così, perché oggi si parla di cyberbullismo. È ancora peggio, è ancora più crudele. Perché se... Allora, quando io ti dico so cosa vuol dire, perché l'ho subito su di me, a me mi spingevano e mi rompevano gli occhiali. Io tornavo a casa e non dicevo nulla. Perché non dicevo nulla? Perché un po' mi vergognavo, non so, per virilità o quant'altro. Ma se qualcuno mi avesse filmato e l'avesse poi postato sul social, sarebbe stata una doppia pugnalata. O meglio, è un qualcosa che esiste e ognuno va lì e lo va a guardare, ogni volta che qualcuno lo guarda e tu lo sai, ti fa ancora male. Quindi è ancora peggio. Secondo me è amplificato per dieci. Prima di chiudere voglio dire che questo libro è interessante perché in diverse parti stimola chiunque, in qualsiasi ruolo si trovi, anche come testimone di atti di bullismo, ad esprimere e a parlare e a non rimanere zitti, che poi è la chiave di questo... Insomma, forse non dico risolutiva, sicuramente è il primo passo importante. Sì, bisogna partire da qualcosa. Quindi non sappiamo noi qual è la soluzione. Magari noi avessimo le soluzioni e gli antidoti. Però io sono a favore, non al bullismo in questo caso, perché si parla di bullismo, ma non alla violenza. Siamo nel 2020, ragazzi. Bene, io ti ringrazio. Mi sa che abbiamo finito il nostro tempo, quindi insomma, in bocca al lupo per tutto qui a Sanremo e divertiti. Mi divertirò sicuramente. Ringrazio te e ci vediamo presto. Un saluto a tutti i lettori, tutti gli ascoltatori. Ciao, guai giù! Grazie a tutti.